La cremeria al Duomo di Lucera era gremita di gente per la prima tappa pugliese della presentazione del romanzo Se stasera viene il mare di Claudio Lecci e Mariella Di Monte della Grenzi Edizioni. L'introduzione del libro è stata curata dal noto sociologo e teorico dell'amore Francesco Alberoni, mentre sulla copertina campeggia in tutta la sua provocante originalità un disegno dell'artista lucerino Giuseppe Petrilli. Il romanzo, scritto a due mani, segue un filo lucidissimo che non fa minimamente supporre ad una diversità di stile. Le voci narranti sono talmente compenetrate e percorrenti la stessa lunghezza d'onda che tutto sembra fondersi in un unico romanzo ricco di spaccati filosofici, psicologici, medici e poetici e con un linguaggio ricco e raffinato. Claudio Lecci e Mariella Di Monte sono riusciti dunque a realizzare un pezzo letterario di autentica bravura così come definito da Francesco Alberoni.